Ciao, sono Gabriele, vengo all'università del studio di Milano, sono venuto a fare più di giorno il corso di ATS sul allenamento della forza e devo dire parlando dell'organizzazione che è ben strutturato, siamo ben seguiti sia dai tecnici di regione che dai tecnici di ATS, viene organizzato anche con la traduzione che viene fatta in simultanea con le spiegazioni, quindi ci permette anche a chi non sa, bene il francese, di poter apprendere il più possibile, quindi mi ritengo davvero soddisfatti. Ciao, io invece sono Andrea, anch'io ho un'opera studio alla forza della scienza di Milano e riguardo i contenuti che vengono affrontati qui al CEPR, reputo siano fondamentali per gente che studia la scienza di Milano, offrono un sacco di spunti per l'applicazione pratica sul lavoro effettivo e comunque è un buon ripasso. Il livello è altissimo, attrezzature astronomiche, lo consiglio a tutti.